Un saluto a tutti i cari amici appassionati di fotografia. In questo video vediamo bene nel dettaglio la più piccola fotocamera obiettivi intercambiabili reflex mai costruita. Questa è la Pentax A110. È una fotocamera a tutti gli effetti, a pellicola, ha obiettivi intercambiabili. Abbiamo tanti obiettivi da poterci montare su. Funziona perfettamente, ha uno specchio. Abbiamo un mirino ottico attraverso il quale vedere, mettere a fuoco, misurazione TTL, fotocamera fantastica e guardate quanto è piccola. Ve la faccio vedere in confronto ad esempio a una Olympus OM3 che è una reflex normale da 35 mm e la differenza è abissale, veramente abissale. Una prima, Pentax, poi in futuro ha riproposto formati così piccoli come la Pentax Q, però è una mirrorless che è la più piccola mirrorless al mondo. E guardate le dimensioni sono paragonabili. È veramente pazzesco. Ve la faccio vedere anche accanto alla GM1 che è la micro 4 terzi più piccola al mondo. E che dire, insomma, è una fotocamera a pellicola reflex. Insomma, pazzesco veramente. In questo video voglio farvela vedere bene, farvi vedere tutti i suoi obiettivi perché c'è la sua confezione originale che guardate un po' ha dentro tutti gli accessori. Pensate un po', abbiamo anche un flash dedicato, abbiamo addirittura il winder dedicato, tutti i filtri, paraluce. Vedete, questa è il fronte della scatola, la faccio vedere. Vedete, la confezione che ha tutto al suo interno. E ve la voglio far vedere e soprattutto voglio farvi vedere anche come rendono questi obiettivi. Non ho trovato purtroppo i rullini da 110 perché monta i rullini quelli piccoli. Vi faccio vedere, guardate, monta i rullini piccoli. Ma, guardate un po' cosa sono riuscito a comprare per la modica cifra di 50€, sono riuscito a trovare l'adattatore Pentax 110 per micro 4 terzi. Infatti ho montato questi obiettivi sulla GM1 e ho fatto delle foto. E vi spoilerò che le foto sono stupende. Bene, detto ciò, andiamo più da vicino a vedere come funziona questa macchina fotografica del 1978. 78. Iniziamo! Ed eccoci qui, qui c'è la scatola della Pentax Auto 110 che ha dentro tutto quanto il kit che serve per scattare a pellicola. Allora, qui c'è il top. Sotto troviamo le istruzioni. Questo qua è il manuale di istruzioni e dietro abbiamo anche un fuscolo con tutti gli accessori al suo interno. Plastica. Ed ecco qui la nostra bella scatola. Guardate che meraviglia. Dentro c'è tutto quello, tutti gli accessori che servono per questa bellissima fotocamera in miniatura. Bene, io direi di iniziare. Allora, qui c'è la fotocamera. E ingrandisco subito per farvela vedere bene. Guardate che gioiellino. Cioè, tenerla tra le mani sembra un giocattolo, ma è una reflex funzionante a tutti gli effetti. Lo faccio vedere accanto a una reflex normale, di nuovo, più da vicino. E guardate un po' che differenza abissale. Pentax Q ha continuato a fare questa cosa di miniaturizzazione anche nel digitale con la Pentax Q. Perché la Pentax Q, guardate un po', è grande, praticamente uguale. Che dire, veramente pazzesco. Solo che la Pentax Q è la più piccola mirrorless. Al mondo, invece, la Pentax A110 è la più piccola reflex. Infatti è una macchina a obiettivi intercambiabili, che ha uno specchio e un mirino ottico e un pentaprisma. Insomma, che dire, veramente pazzesca. Solo che purtroppo questa è costruita completamente in plastica. Mentre la Pentax Q, la prima, quantomeno, è costruita in lega di magnesio. Molto, molto più robusta. Alzo leggermente l'esposizione. Ecco qua. Tutto è dotato dei suoi tappini, vedete? Qui c'è l'obiettivo. Questo è l'equivalente del 50 mm, è un 2.8. Gli obiettivi non hanno il diaframma, sono ad apertura fissa. Però abbiamo una bella ghiera di messa a fuoco con la scala metrica. E vediamo un po' come funziona questa macchina fotografica. Allora, per aprirla troviamo il tastino qui di lato. Che, come vedete, si abbassa e ci apre il dorso. Dorso che monta le cartucce della pellicola A110, si chiama così il formato. Qui, come vedete, abbiamo il dorso con la finestrella che ci fa vedere che pellicola abbiamo dentro. E soprattutto se ce l'abbiamo dentro. E parliamo di otturatore. L'otturatore, diciamo che di tipo centrale, perché fa da otturatore lo specchio. Qui davanti abbiamo lo specchio. Infatti se io passo la mano, vedete, si vede attraverso. Ma lo specchio, alzandosi, fa da otturatore. E vi faccio vedere. Scatto una foto, quindi carico, vedete? E l'otturatore si alza, o meglio, lo specchio si alza e oltre a far passare la luce sulla pellicola, fa da otturatore vero e proprio. Quindi non ci sono due componentistiche come nelle reflex normali, ma solo una. Bellissima trovata ingegneristica, questa qui di Pentax. Scusate, all'interno vi ritroviamo anche l'alloggio delle batterie, che è questo qui. Abbiamo questo piccolo, vedete, pezzettino di plastica che contiene due LR44 da un volta e mezzo, quindi batterie classicissime e comodissime da trovare. Qui c'è il mirino, eccolo qua. Qui c'è il mirino. Ovviamente all'interno del mirino abbiamo il vetrino di messa a fuoco. Abbiamo l'immagine spezzata, quindi lo stigmometro per avere una messa a fuoco di precisione. Fatta davvero bene, da questo punto di vista fatta veramente bene. Poi sopra abbiamo l'attacco per il flash, lì si va a montare il flash. Tasto di scatto con la filettatura per il cavo remoto e qui abbiamo questa leva qui, stile Canon A1. Quindi su L è bloccata, su A è accesa e su S è self timer, quindi l'autoscatto. Vi faccio vedere l'autoscatto, quindi carico, premo. Ovviamente è una fotocamera completamente elettronica. E come vedete abbiamo un bellissimo LED che ci fa vedere che l'autoscatto è attivato. Ecco qua, è la macchina scatta. Quindi sulla A ovviamente la macchina scatterà in automatico, vedete? Quindi in base a se c'è più o meno luce, guardate, prendo un po' di ombra, vedete? Ci impiega di più, punto contro la luce, ci impiega di meno. Quindi è una macchina che scatta a priorità di apertura perché ovviamente l'apertura è fissa e basta, è la macchina a selezione al tempo. Diciamo molto basilare ma le esposizioni sono giuste e basta, non serve nient'altro. Leva di carica piccolina, ma carina tra l'altro leva di carica che in teoria è la stessa identica della Pentax 17. Qui abbiamo l'attacco per la tracollina, o meglio per il polso, quel laccio da polso. E basta, finito di usare la macchina, si rimette su L e la macchina è spenta e qui possiamo chiudere la leva di carica. Veramente pazzesca. Come si cambiano gli obiettivi? Si alza questa levetta e si gira. Questo qua è l'attacco Pentax 110, vedete? Quindi abbiamo un attacco a baionetta. Guardate un po'. E questo è l'attacco dell'obiettivo. Obiettivi molto carini che ovviamente hanno la bellissima ghiera di messa a fuoco. Vedete? Magari riesco a farla girare un po'. Ecco qua. Questo è il più piccolino, quello che equivale a un 50 mm. E poi abbiamo gli altri. Vi faccio vedere questo. Questo è tutto ovviamente con i tappi. Guardate, tappo davanti, tappo dietro. Che carino avere tutti gli accessori. E basta. Questo è il grandangolo. Questo è buono, è circa un 30 mm. In teoria equivalente. E messa a fuoco. Insomma, veramente carino. E vi faccio vedere come si monta. Vabbè, e vi faccio vedere come si monta. Insomma, basta allineare puntino rosso e freccetta rossa. Si monta e si gira. Veramente semplice. E questa è la nostra bellissima reflex impugnatura. Insomma, nostra bellissima reflex tascabile. Veramente adorabile. Vi faccio vedere anche l'altro obiettivo di questo kit. Poi ce ne sono anche due obiettivi che non si comprano in kit. Sono a parte. Ok, guardate un po'. Pam pam, monto. E questo è il 50 mm, sempre 2.8. Sono tutti 2.8 questi obiettivi. Ovviamente il 50 mm avrà una resa tipo di un 100, un po' più lunga. Ma guardate che bello e come sta bene. Insomma, ve la faccio rivedere accanto all'Olympus con i due 50 mm che ovviamente coprono focali diverse. Bellissimo. Veramente bello. Ve la faccio vedere anche accanto alla GM1 che è la più piccola micro 4 terzi al mondo. E insomma, meraviglioso, meraviglioso. Questi obiettivi li ho usati proprio sulla Lumix e vi faccio vedere usando questo adattatore. Vedete? Sono riuscito a trovare questo adattatore micro 4 terzi Pentax A110. Si monta in questa maniera e ci montiamo l'obiettivo sopra. Vedete? E ho scattato delle foto con questa Lumix e vi farò vedere i risultati. Vi dico già che le foto sono bellissime. Resa stupenda. Insomma, mi piace tantissimo la resa di questi obiettivi. Un bello sfocato, almeno per gli obiettivi più lunghi. E il grand angolo, insomma, è buono. Che dire? Bellissimo, bellissimo. Mettiamo via. Poi, cos'altro abbiamo all'interno della scatola? Beh, all'interno troviamo il winder. Eccolo qua. Winder che si monta in questa maniera. Quindi molto semplice. Si va ad avvitare qua sotto. Opla. Pam, 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 pam. Vedete? Si gira. E possiamo scattare così avendo anche un'impugnatura un po' più comoda. Vedete? Bellissimo. E dietro c'è lo switch per accendere il riavvolgitore. Ovviamente serve la batteria. Qui abbiamo invece l'attacco per il flash. Ecco qua. Abbiamo il suo bel flashettino. Molto carino. Anche qui servono le batterie. C'è il tastino di accensione. Attenzione che per rimuovere l'accessorio del flash bisogna imprimere questo tasto qui davanti. Imprimiamo il tasto e pam, rimuoviamo il flash. Abbiamo anche un adattatore per il treppiede. Quindi per attaccare la vita sotto. Ecco qua. Poi abbiamo tutti i paraluce. Mi aserco a farvi vedere. Ho messo a fuoco. Poi abbiamo anche tutti i paraluce in gomma. Quelli classici insomma che trovavamo su tutti gli obiettivi. Vi faccio vedere. Ecco qua. Guardate che carina questa macchina con il suo bel paralucino. Bellissimo. Ed è incredibile che ci siano tutti tutti gli accessori. Poi abbiamo tutti i vari filtri. Quindi i vari sky, i vari UV. Con i vari diametri. Ecco qua. Vi faccio vedere il lavoro giusto per informazione. Così se doveste comprare questo kit sapete cosa c'è dentro. Ecco qua. Abbiamo anche i filtri close up. E insomma. Questo è quanto. Abbiamo il laccetto. Custodietta. Vabbè qua in celofanata. E sempre un'altra custodietta per metterci dentro la fotocamera. Insomma questi erano tutti gli accessori della Pentax A110. Bene. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa micromacchina fotografica. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Noi ci vediamo un prossimo video. Statemi bene come sempre. A presto. Noi ci vediamo un prossimo video. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.